Cinghiali a spasso per le vie della città. Così come è successo nei mesi scorsi a Roma, in queste settimane anche a San Nicandro si sta registrando la presenza dei cinghiali tra le vie cittadine vicino alle abitazioni. Una situazione che preoccupa e spaventa i residenti, ma anche e soprattutto il sindaco Matteo Vocale, che per la terza volta in cinque mesi segnala alla Regione Puglia e alla Prefettura l'avvistamento nelle vie del centro del paese di cinghiali, l'ultimo dei quali è avvenuto proprio ieri, così come mostrano le immagini che stanno facendo il giro del web diventando virali. Nel video la presenza di due cinghiali che per diverse ore hanno girovagato in città indisturbati fino all'arrivo della polizia locale e dei carabinieri forestali Parco che hanno dirottato i due animali verso la periferia. Sono state ore di preoccupazione ed ansia che hanno sollevato un vero e proprio allarme sociale tra i cittadini, vista anche la possibile pericolosità dei cinghiali che in alcune occasioni avrebbero anche provato ad aggredire i residenti. Da giorni purtroppo nel centro garganico si verificano episodi di cinghiali che si avvicinano al centro abitato in cerca di cibo durante il giorno e anche durante le ore della sera. Cinghiali che creano danni all'agricoltura e la loro presenza lungo le strade ha creato anche numerosi incidenti, molti dei quali mortali. Dalla pagina social arriva il grido di allarme e la richiesta di aiuto del sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale. Dopo l'accaduto di questa mattina, si legge proprio nella pagina social, ha inviato l'ennesima richiesta di aiuto alla regione Puglia al prefetto, la terza, in quattro mesi. Una situazione non più tollerabile, scrive Vocale. Aspettare al piano di sele e controllo richiede tempo, troppo. Occorrono misure più celeri e urgenti. Solo chi non vive a San Nicandro Garganico e nel suo territorio non sa e non immagina quali sia alla portata di questa piaga. Per questo, conclude Matteo Vocale, servono interventi immediati.